amici di rts insomma questa sera le sorprese caro andrea non finiscono mai e abbiamo il grande onore di avere uno dei volti televisivi più bravi e più belli anche diciamolo in questo caso per fortuna che hai letto storico perché lei è giovanissima abbiamo con noi la presentatrice ufficiale del premio della bifida seconda edizione Emanuela Fogliero che sta studiando sì no stavo contando ciao ciao a tutti ciao ciao è in seconda edizione di questo premio l'anno scorso non c'ero quest'anno il piacere di esserci e questo concorso aperto appunto a tutti i ragazzi esordienti giovani meno giovane di tutti i generi musicali proprio per dare uno spazio sia online e sia proprio live invece come questa sera dove ci saranno poi le semifinali e poi le finalissime in settembre so che vincono dei bellissimi premi che ovviamente sono premi che servono per la loro carriera quindi sono contratti discografici e quant'altro ha sposto un premio a questa grande artista che è stata Nilla Pizzi riconosciuta a livello internazionale a livello internazionale ecco guarda noi prima abbiamo sentito il sound check e ti posso dire che è vero Davide ci sono delle voci molto interessanti sì e io non lo sentite perché non voglio sentire certo è giusto così le sentirò le sentirò adesso qual è Emanuela ne approfitto il tuo metodo di giudizio dunque io credo che per tutto quello che riguarda il mondo dei suoni che va dalla voce alle sonorità conta molto sì l'esperienza ma anche il tuo orecchio musicale la tua le vibrazioni che senti da una voce e anche la pelle d'occa io dico quando vedevo vedo il festival di Sanremo anche proprio di Sanremo ci sono stati due o tre anni che ho beccato subito il vincitore perché mi venono fisicamente i brividi quindi l'emozione della prima cosa la sensazione quella sì caro Davide ci fanno segno di tagliare perché lei deve anche lavorare Emanuela tu sicuramente ci hai emozionato con la tua bravura e si è visto anche questo piccolo lancio ti chiediamo solo un regalo un saluto ai nostri ascoltatori di RTS ed Emanuela Fogliero un grande saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di RTS Emanuela ti ringraziamo tantissimo e spero che ci vediamo presto per un'altra intervista grazie ciao buonasera ciao 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 Grazie a tutti.